Dal prossimo 4 settembre i cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno di lungo corso o dello status di rifugiati o di quello di protezione sussidiaria potranno partecipare ai concorsi pubblici ed accedere ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Ciò che prima era riservato ai soli cittadini dell'Unione Europea sarà da domani allargato anche ai cittadini di paesi terzi. In altre parole anche chi non è cittadino italiano e europeo potrà insegnare in una scuola pubblica, avere incarichi presso amministrazioni comunali o ministeri. Il merito di questa silenziosa rivoluzione è della legge 97 del 6 agosto 2013 il cui titolo autolesionista è disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale. Perché di fatto quello che sta avvenendo è l'ennesima imposizione di una direttiva europea che l'Italia ha dovuto approvare appena il rischio di apertura di una procedura di infrazione. Tale direttiva si basa sulla convenzione del 1975 che equipare i lavoratori stranieri legalmente soggiornanti ai lavoratori nazionali. Ma non finisce qui. Nella discussione alla Camera del luglio scorso il governo ha colto sotto formula di valutazione di possibilità gli ordini del giorno presentati da Sinistra e Libertà, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle circa la possibilità di allargare ulteriormente l'accesso di extracomunitari non solo a chi è in possesso di un permesso di soggiorno a lungo termine ma anche a chi ha un permesso di soggiorno semplice di breve tempo. Insomma chiunque entra in Italia anche per brevissimo tempo potrà avere lo stesso diritto dei cittadini italiani a partecipare a concorsi pubblici e accedere ai ruoli nella pubblica amministrazione. E se il ministro Chienge riuscirà a togliere anche il reato di migrazione clandestina da domani i nostri uffici pubblici, le nostre scuole e i nostri ospedali potranno avere impiegati, insegnanti, medici di paesi extracomunitari entrati clandestinamente e poi magari regolarizzati con qualsiasi permesso di soggiorno.